Se nel 2009 quando ci siamo accorti di Airbnb avessimo potuto investire diciamo 1000 euro, oggi quei 1000 euro varrebbero più o meno 3 milioni di euro. Oppure se avessimo potuto aiutarli per esempio a tradurre in italiano il loro sito e ci avessero pagato in criptovalute, oggi quelle criptovalute varrebbero tantissimi soldi. Un altro modo per scommettere su Airbnb sarebbe stato prendere prenotazioni e farsi pagare nei loro token o parzialmente o completamente, anche in quel caso i token varrebbero parecchie centinaia di migliaia di euro. Ora purtroppo non era possibile quindi non abbiamo potuto scommettere su Airbnb anche se molti di noi avevano intuito subito le potenzialità enormi dell'azienda. Oggi le cose sono cambiate e stanno nascendo delle aziende che ci permettono di scommettere su di loro in questi modi. Ce ne sono già almeno 4 o 5 di abbastanza serie, alcune hanno già raccolto vari milioni di euro in investimento attraverso le ICO, cioè attraverso la vendita dei loro token. Le opportunità e i rischi sono enormi, è un mondo completamente nuovo per la maggior parte di voi, quindi ho lanciato questa conferenza durante la quale darò un'introduzione alla blockchain, al bitcoin, a ethereum eccetera. E poi andrò a analizzare da vicino tutte queste aziende che hanno già raccolto in buona parte capitali di vari milioni di euro e stanno costruendo le alternative future alle OTA classiche. Presenterò anche delle interviste ad alcuni di questi che ci spiegheranno dal loro punto di vista perché ha senso credere in loro e scommettere in loro. E' quindi un'occasione molto importante per aggiornarsi, capire cosa sta succedendo e non trovarsi tra un anno o due quando ormai il treno è passato e si può semplicemente caricare il proprio alloggio sperando di prendere qualche prenotazione. La conferenza è dal vivo a Firenze ed è anche in streaming. Bene, non mi resta che salutarvi e spero che ci vediamo a Firenze. Ciao! 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 Ciao!